La Power Play delle 11.47 qui su Radio DGS, Lil Pipcon, I've Been Waiting. E allora, eccoci qua adesso come sempre, insomma quasi in chiusura, l'appuntamento è dedicato alla pagina sportiva e con me in studio, lo dico per chi ci segue attraverso la radio in 95.3 in FM o sul nostro sito www.radiodgs.net ci sono in studio il direttore sportivo Nicola Pucci e il centrocampista Enrico Stamato. Buongiorno a tutti. Per chi ci segue sul canale 191 del Digitale Terrestri invece vede che il nostro studio è così al completo. Pagina sportiva dunque Praia Tortora, campionato di prima categoria Girone A. Io partirei prima di andare a conoscere, perché stiamo un po' conoscendo tutta la squadra del Praia Tortora, abbiamo avuto Angelo Petrone, il portiere Mattia Marino, adesso siamo passati al centrocampo con Enrico Stamato. Partirei prima con il direttore sportivo Nicola Pucci, perché oggi si disputerà una partita di campionato contro il Mirto Crosia, quindi in casa. E tra l'altro nel calendario è il turno di riposo del Real Sant'Agata. Al momento comanda in classifica il Real Sant'Agata con 54 punti, se non sbaglio, 55, scusate. Il Praia Tortora quindi ha la possibilità di riprendersi la vetta qualora ci sia un risultato positivo, giusto? Assolutamente sì. Oggi è una partita difficile che dobbiamo affrontare con la giusta attenzione, perché nel ginore d'andata in quel di Mirto abbiamo fatto fatica, abbiamo affrontato una partita complicata. Siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno, quindi conosciamo i nostri avversari e ci siamo preparati bene per affrontare questa partita al meglio. Certamente, così come ti dicevo la volta scorsa, un po' per indole, un po' per il mio credo calcistico, non amo guardare indietro, ma preferisco guardare in avanti. Abbiamo già ribadito più volte che ormai nel campionato il Praia Tortora è padrone del suo destino, se vince tutte le partite ci può parlare, però è chiaro che questo è un input importante. Oggi è la partita al di là delle difficoltà che può mettere in campo il Mirto Grosia. C'è questo pensiero nella squadra o non deve esserci proprio? Ma guarda, io penso che la squadra ha raggiunto una maturità tale per affrontare le gare con tanto equilibrio e con tanta consapevolezza. Ritengo che, così come hai detto poco fa, ancora ad oggi comanda il San D'Agata fino alle 17, perché poi ritorneremo a comandare il campionato. Da tifoso che ci auguriamo tutti. Devo dire però in maniera imparziale che è un bel campionato, questo va a merito non solo del Praia Tortora ma anche del Rassantica, che comunque sia non sta mollando la presa, è sempre lì a cercare di starvi con il fiato sul collo in vista anche della penultima di campionato che poi dovrete affrontare invece in casa loro. Vorrei adesso passare al nostro centrocampista Stamato, Enrico, che ha già militato in categorie anche superiori. Vincere un campionato non è mai semplice. Assolutamente. Ha sempre delle insieme, anche quando si parte tra i favoriti, perché è chiaro che il progetto del Praia Tortora è stato presentato come un progetto che aveva e ha la voglia di arrivare fino in fondo sia sul campionato che anche sulla Coppa Calabra. Ecco, questo ti ha spinto ad accettare di venire al Praia Tortora oppure, non so, magari hai tentennato. Com'è stata la proposta di arrivare al Praia Tortora? No, no, assolutamente. Io ho ricevuto la prima chiamata più o meno a luglio del mister Roberto Mantuano insieme al direttore sportivo Nicola. Sinceramente non ci ho pensato su due volte. Cioè, quando chiama una società come il Praia Tortora, con delle ambizioni comunque di vertice assoluto, perché comunque devi vincere, sei chiamato ad una causa difficile come quella di vincere. Poi, parliamoci chiaro, un paese come Praia, come Tortora, ha il suo fascino. Non puoi dire di no quando ricevi queste chiamate, assolutamente. Sicuramente poi è anche motivo di orgoglio portare a un livello di categoria superiore una squadra, di un paese, insomma, essere protagonisti in questo. Sì, perché Praia, Tortora, insomma, hanno militato in categorie superiori. Praia, tanti anni in eccellenza, ha sfiorato l'Interregionale, mi ricordo, tempo fa. Il Tortora, comunque, me lo ricordo in promozione, ci ho giocato spesso contro, quindi è il nostro dovere, il nostro compito, riportare questa squadra dove merita. Un Interland come quello di Praia, Tortora, con tutto il rispetto per la prima categoria, che è un campionato tosto, però secondo me merita categorie superiori, assolutamente. Grande lavoro quello del centrocampo, no? Perché stamato viene soprannominato motorino, perché ha una velocità impressionante ed è quello che garantisce le incursioni in attacco, ma protegge anche la difesa. Sì, noi siamo comunque un gruppo di giocatori, una squadra completa. C'è magari chi è più fantasioso, chi vede la porta, la difesa compatta, tosta, e c'è a centrocampo chi deve anche portare un pochino l'acqua sulle spalle, correre per i compagni e cercare di fare le due fasi. Quindi per me è un piacere correre e sacrificarmi per il mister, per i compagni. È stato sempre questo il tuo ruolo o lo stai ricoprendo adesso qui nel Praia Tortora? Trovo pure in altre categorie o in altre squadre ho ricoperto ruoli diversi. Allora, diciamo che quando ero un po' più ragazzo, anche io giocavo leggermente più avanti, facendo l'ala, facendo magari il tornante a destra, a sinistra. Poi col tempo mi sono adattato un po' di più a centrocampo, mezzala. Comunque io utilizzo molto la corsa, in uno sport come il calcio la corsa serve, quindi magari sono un po' più duttile. È un ragazzo che mette il cuore quando gioca. Si spende tanto, quindi... Ricordiamo anche che le partite casalinghe del Praia Tortora sono visibili anche sul nostro canale 191 al Digitale Terrestre, quindi o al campo, è auspicabile che la gente venga a vedervi al campo e può anche poi rivedere la partita sul nostro canale. Quindi le partite le abbiamo seguite, lo vediamo, quanto cuore, quanti palloni recupera quando la squadra è un po' sbilanciata, c'è sempre lui pronto con l'occhio, questo l'ho potuto osservare di persona. Grazie. Sta lì con l'occhio vigile se la squadra si dovesse esporre a un contropiede. Correggimi se sbagli. No, no, assolutamente non sbagli, però ti posso dire che non lo faccio solo io, lo facciamo un po' tutti. Io ho visto gente come Ramunno, come Petrone, come Scoppetta che è arrivato da poco e comunque sono attaccanti, devono far gol. Quanto è il momento del bisogno, vengono dietro a dare una mano. Così come lo fa Orsino, Mandarano, Matellicani, i giovani, come Siska. Chi giochiamo nella zona nevragica del campo, diamo una grossa mano ai compagni e i compagni danno una grossa mano a noi. E questo è quello che noi stiamo scoprendo un po', scoprendo i giocatori del Praia Tortora. Abbiamo ogni sabato la conferma che c'è un grande gruppo, questo lo possiamo dire. insomma, ce ne rendiamo conto, tutti parlano bene di tutti, non c'è mai una parola fuori posto, c'è veramente uno spirito di unione e di collaborazione nel voler raggiungere questo obiettivo che al di là di tutto sembra quasi una questione personale, come vincere un trofeo anche personale. Quando sposi una causa deve essere così. Noi non siamo solo un gruppo, siamo una squadra vera e propria. Tutti quanti andiamo verso l'unico obiettivo e questa è la nostra forza. E allora grazie al direttore sportivo Nicola Pucci. Grazie a voi, buona giornata. Ad Enrico Stamato. Grazie mille. Bocca al lupo per la partita oggi. Viva il lupo. Viva il lupo sempre. E ovviamente poi vi rimando alla pagina sportiva di lunedì con Francesco Ida, sempre sui canali di Radio DGS. Grazie a tutti.